Da lunedì 30 agosto e da giorni successivi da un punto di vista meteorologico l'Italia sarà divisa in due. Un nuovo fronte temporalesco porterà forte instabilità sulle regioni del nord mentre al sud, in particolare in Sicilia, tornerà il caldo intenso con temperature ben oltre la media. La prima settimana di settembre porterà fresco e pioggia su metà Italia con piccoli assaggi di autunno, mentre il bel tempo e l'estate continuerà a farla da padrona sull'altra metà. Nello specifico sarà fresco al nord e su gran parte del centro con nubi intense, mentre rovesce e qualche temporale colpiranno soprattutto le regioni del nord-est e le aree interne della Toscana, ma soprattutto le Marche e l'Umbria. Al sud l'anticiclone africano porterà tempo più stabile e caldo con temperature superiori alla media sulla Sicilia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.